Gianmarco Paulis, è arrivata l'aritmetica, state festeggiando, siete contenti? Siamo contentissimi perché siamo dal 17 agosto che abbiamo iniziato, abbiamo un unico obiettivo, ci siamo in eccellenza, ce ne andiamo, ce ne andiamo in eccellenza, ce ne andiamo, ce ne andiamo in eccellenza. Siamo felicissimi perché siamo dal 17 agosto che abbiamo iniziato tutti insieme con l'unico obiettivo, oggi abbiamo raggiunto l'aritmetica, adesso ci manca il 18 maggio la fine di Coppa, anche quello è il nostro obiettivo, vogliamo vincere, e niente, sono felicissimo perché dopo la mare retrocessione della passata stagione, mi serviva un campionato del genere per ripartire. Ricordiamo che tu la retrocessione l'hai fatta con la Nusè, però poi l'ambiente del monastero ha lo stesso perché sono retrocessi anche loro con una garappa che manda la posta. Da una retrocessione si è passata una promozione, quindi siamo tutti felici. Il calcio è bello per quello. È bello, bello. Senti, nella scritta, troppo facile, pensavo peggio, cosa racchiude? Racchiude una citazione il nostro compagno, il bomber Mauretto, è la sua classica frase, pensavo peggio, quindi dopo la sua stagione fantastica che ha portato la nostra, è stata una componente per la nostra vittoria, abbiamo voluto metterla in evidenza nella nostra maglia. Mauro, tanti gol, e quelli di Gianmarco quando li vedremo? L'anno prossimo. Ci sono sei passi di stasera, sei partite, non ti esponi per quest'anno. È una stagione da quel punto di vista negativa, però sono contento per aver vinto il campionato, i gol arriveranno. Grazie Gianmarco, complimenti.